. A con dieresi al 7 barra verticale dollaro l e t islandese x barra rovesciata 8 i a ips x a con anello y con accento acuto e t islandese 8 a con dieresi. . T a con dieresi al y con accento acuto a con dieresi a con con accento acuto barra verticale micro minore di o con accento circonflesso t a con dieresi x u con dieresi di negazione barra rovesciata punto esclamativo rovesciato x a con dieresi. Esponente 1 t x a con anello y con accento acuto e t islandese. . T e t islandese a con dieresi allo e negazione e t islandese t t u con dieresi ud micro t i x a con anello y con accento acuto e t islandese t e t islandese, . 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 Islandese o con accento circonflesso e micro a con di eresi chiocciolaese con carona ftp, minore di t più o meno o con accento circonflesso i barra rovesciato ux zero grado a con di eresi al. . A o e 2003 di K b s u con di eresi barra verticale a x euro di minore di più o con accento circonflesso barra rovesciata con di eresi al t a con di eresi ax t n t barra verticale chiocciola it a con tilde n con tilde a ed a con di eresi n con tilde t chiocciola u con di eresi barra verticale et islandese. . Barra rovesciata con di eresi al barra rovesciato u con di eresi um. .